Matteo, la tua città Monza, la tua carriera da professionista è partita da qui, cosa provi a tornare in questo stadio da campione d'Europa e a ricevere questo premio? No, è sicuramente un'emozione tornare qui in questo stadio dove è iniziato tutto, le mie prime partite da professionista ma poi tutti i dieci anni che ho fatto qui come settore giovanile sono un punto di riferimento qua per me, questo stadio e questa società. Sono super felice di ricevere questo premio importante da parte della mia città e in questo stadio soprattutto. Hai un rapporto speciale con il Monza, con Monza possiamo dire anche con Adriano Gagliani che ti portò al Milan sei anni fa. Sì, è un po' come fosse il mio secondo padre, il mio padrino sportivo, è stato lui a vedere in me forse per primo le mie capacità, mi portò al Milan, ci sentiamo tutt'ora, mi fa i complimenti, mi manda le pagine dei giornali molto spesso quando parlano di me, abbiamo un bellissimo rapporto. Nonostante i tanti impegni con l'Atalanta, Champions League, campionato alla nazionale, appena poi però ti vediamo a vedere il Monza, lo segui ancora anche le partite del settore giovanile? Sì, seguo ovviamente Monza e casa mia, io sono di Monza e abito tutt'ora qua, è la società dove è iniziato tutto, quindi mi piace seguirla e tifo Monza, oltre ovviamente all'Atalanta. Seguo anche le partite del settore giovanile come hai detto perché ci sono tanti mister che ho avuto anch'io, c'è il mio amico Raffaele Palladino che sta facendo benissimo, quindi mi piace vedere crescere anche questi ragazzi. Possiamo dire che magari speriamo di vederti qui tra un anno per un altro premio magari da campione del mondo? Sognare non costa nulla, l'abbiamo imparato quest'estate e ovviamente sarà ancora più difficile, prima di tutto dobbiamo qualificarci che è ancora aperta, la strada è ancora lunga, però mai dire mai insomma.